Finalmente sono molto contento, una scelta da quale già da tanto c'era questa che parlavano insieme ai procuratori, ho sempre dato la disponibilità perché so della importanza di questa piazza, so anche che c'è un grande progetto, quindi sono molto contento. Arrivi a rinforzare un attacco che è già molto molto forte, che cosa può dare Neto Pereira dall'alto ormai delle sue quasi 37 primaveri? No, non posso dare la disponibilità perché sono qua per dare una mano e quindi sarò molto disponibile per quello che aveva bisogno il ministro e quella è la cosa che penso che tutti la metteranno per cercare di fare bene. Se uno legge la tua scheda legge che sei soprannominato Svarosky per via dei tanti infortuni, in realtà se leggiamo le presenze degli ultimi anni, 30 l'anno scorso, 27 l'anno prima, sono proprio poche. No, no, eh sì, questo è iniziato qualche anni fa con questo soprannome, però come hai detto infatti i numeri non è che sono proprio così. Per la tua esperienza, per chiudere, che cosa deve, qual è la prima cosa da fare in un gruppo che appunto arriva dalla serie D, si riaffaccia al professionismo e che ha anche tanti volti nuovi? No, no, noi i nuovi dobbiamo scappare subito e entrare subito nel modo, nel sistema che c'era prima, perché ho visto che qua l'anno scorso c'era un gruppo molto unito, infatti è stata la base della vittoria, noi i nuovi dobbiamo mettere a disposizione di questi, così riusciamo a fare il prima possibile, metterci in meglio. Trovi altri tre brasiliani, hai altri tre brasiliani in squadra? Sì, sì, Dini lo conoscevo già perché ha fatto una preparazione, Fabiano lo conosciuto, però siamo a disposizione, siamo qua per aiutare Padua. Ecco, conosci già a parte l'inizio qualcun altro dei tuoi nuovi campani? Sì, no, al TDA è unico, abbiamo giocato contro, giocatore di grande qualità, sicuramente il quadro si sta attrezzando molto bene.